Sono arrivato in un ultimo momento, l'ultima cena, ma sapevo che è importante direi questo? Lo sapevo, non è che lo so lì. Eccolo sul volo. No, ma è per quello che Leonardo da Vinci ha lasciato a noi, non c'è l'ultima cena. Vediamo i tempi, in cui la parte religiosa, il soggetto più, anche per i miei religiosi, cosa che abbiamo detto, penso che il quale non c'è l'ultima cena, è stata un'ultima cena, non c'è l'ultima cena, non c'è l'ultima cena, non c'è l'ultima cena. E' un livello di conservazione, nel lato del tempo, è stato assolutamente un bombardamento, e quello che ci rimane oggi, l'ultima cena, è probabilmente solo il ricordo estetico, quindi quello che è veramente una tecnica proprio contraria al risultato che abbiamo detto, cioè per usare una tecnica con dei colori che avessero una grandezza superiore alla fresca tradizionale, e quindi un dipinto su un muro, sostanzialmente, però un dipinto di uno stesso. Il messaggio, e qui quindi quello stesso, che vogliamo riferire qua, un po' con noi vanno a analisi, è dare la possibilità agli visitatori, che ci potrebbero scegliere ad alcuni vengoli della mostra, pensando che qui ci sia la vera ultima cena. Quindi diciamo che la vera ultima cena è a Santa Maria delle Grazie. Quello che abbiamo qui è una riproduzione, una ricostruzione dell'ultima cena, con i colori, con la brillantezza dei colori, come immaginiamo la desiderasse Leonardo ai suoi tempi. Quindi come potrebbe apparire il quadro, quindi è finito. Quindi perché è meglio di venire al museo di Leonardo III, per rendere l'idea, no? di quello che doveva essere l'originale, perché probabilmente andiamo a vedere, non so, un'arriva di quello che è rimasto. E' una percentuale che è la nostra città, esattamente così. Poi sul messaggio religioso, è chiaramente un simbolo religioso dipinto, però sull'apporto tra Leonardo e la religione ci sarebbe da parlare tantissimo. Infatti è un progetto questo dell'ultima cena curato, non brevemente da me, ma dal mio collega Mario Pateri. E lui, durante le presentazioni che io vado a ascoltare, spesso conclude con questo momento divertente e chiede al pubblico cosa manca nell'ultima cena. Se noi guardiamo l'ultima cena, non è l'unica presentazione quella di Leonardo. Certo. Non so se ne sono decine, le decine a cui tutti sono Leonardo si è ispirato, come molti altri si sono ispirati a quella di Leonardo. Però se guarda qui la differenza tra l'ultima cena di Leonardo, c'è che queste persone che vediamo tutti alle nostre spalle, manca qualcosa. Se tu mi guardi, questo non mi accorgi, ma quando te lo metterai, mancano le areole intorno alla testa. E quindi dobbiamo rappresentare questi personaggi, non come divinitano, come personaggi in chiesa, ma semplicemente come uomini. Come persone. E questo è, come persone, non è esattamente un'unica. Come persone, un'unica. E questo è il grande messaggio. E poi non è fatto quello che vuole. Assolutamente. E quindi la conclusione, diciamo, di questa mostra, ma di quello che ha lasciato Leonardo da Vinci, che noi siamo partiti dal fatto che lui, purtroppo per certe mancanze, non ha lasciato i suoi accaduti, no? Per comunicare, per condividere, no? Questa cosa. Ma in realtà erano veramente tantissimi interessanti. Sì. Ancuni sono arrivati. Ancuni, insomma, arrivati, ma direi che sta interpretando, così come me la sta confermando, un messaggio non religioso, piuttosto solo arte, o quello che l'hanno capito fino a un certo momento. Ma stava riflettendo un po' proprio la società, anche, che io oggi sono molto tendenziale. Assolutamente.